Oggi vediamo come accendere il LED con la Universal Telegram Bot e l'Arduino Wi-Fi Nano IoT 33, chi più ne ha più ne metta. Il sistema è abbastanza semplice, una volta capito il meccanismo poi lo possiamo applicare per creare tutte le varie tipi di comunicazione. Iniziamo subito. Alla scorsa volta abbiamo visto come realizzare l'eco, quindi mandare i messaggi e farli tornare in modo che la chat su Telegram sia bidirezionale. Quindi se riuscite a mandare questo è lo avanti e indietro. Oggi vediamo come effettivamente pilotare il LED, quindi rifare quello che abbiamo fatto la prima volta con la libreria Telegram Bot e quindi mandare dei messaggi, per esempio LED ON e LED OFF e con questi comandare il LED che abbiamo collegato sul pin 2 con resistenza da 3,90. Stiamo usando un nano IoT 33, libreria Wi-Fi Nina per il Wi-Fi, Arduino JSON ultima versione e Universal Telegram Bot come libreria per Telegram. Andiamo a vedere il codice, come vedete è abbastanza semplice. Semplice una volta che è stato creato il tutto. Quindi partiamo dal bot. Per creare il bot dovete cercare BotFatter su Telegram, lo cercate qui, poi lanciate il comando barra new bot, vi chiederà il nome del bot da creare, quindi nome utente, username, gli ho dato lo stesso per semplicità, vi risponderà BotFatter con il token che copieremo all'interno del nostro sketch. Servirà per far parlare i due. Abbiamo installato la Wi-Fi Nina, ultima versione, Universal Telegram Bot e Arduino JSON, ultima versione. Prendo lo sketch dell'altra volta, se non ce l'avete potete recuperarlo. Andando su github.com, z-maker, arduino underscore cookbook trovate l'elenco di tutti i firmware che abbiamo creato in questi anni. Andiamo a prendere per esempio Telegram Unibot Echo che è il video 590. Vado dentro, qua trovo il sorgente, clicchiamo su RAW e qui troviamo il codice che possiamo copiare e incollare per non partire proprio da zero. Cosa troviamo in quel codice? Ci serve, allora, tutta la struttura già pronta, quindi la Wi-Fi Nina in cui mettere nome del Wi-Fi e password, il client Wi-Fi che utilizzeremo per collegarci alla rete, gli include per l'Università Telegram Bot che utilizza Arduino JSON per parlare appunto con Telegram. Avremo questa costante bot token in cui mettiamo il token che ci ha fornito il BotFutter. Creiamo l'oggetto Universal Telegram Bot che trovate qui, passandogli il token e il crime per il Wi-Fi. Nel setup non dimentichiamoci di preparare il pin con pin mode 2 output perché andremo a accendere il LED. Abbiamo il codice necessario per il Wi-Fi, quindi prima di tutto facciamo partire la seriale per poter comunicare con il nostro oggetto, con l'Arduino. La seriale viene prima testata per vedere se la vedo con Wi-Fi punto status. Se è connessa e ci parliamo, proviamo con un wire a fare la connessione con utente e password forniti. Una volta connessi possiamo partire. La libreria Universal Telegram Bot viene interrogata in modo non bloccante, quindi ci servirà un unsigned long T1 che useremo qua. Quindi confronto il tempo corrente con il T1, inizialmente sarà 0. Guardo questa differenza quando questa è maggiore di 500 millisecondi o il tempo che desideriamo. Allora entriamo nell'IF. Prima di uscire ricordiamoci di salvare il tempo corrente in modo che al prossimo giro questa differenza riparta da 0. Come racconto di solito è come scolare la pasta. Qui dentro questo lo lasciamo tale e quale, quindi non dobbiamo modificare nulla perché questo loop che abbiamo creato, questo while, serve per andare a vedere quanti messaggi ci sono da leggere dall'ultimo ricevuto. Possiamo ricavare questi messaggi con GetUpdate. Ci dice se noi gli forniamo il last message received più 1 va a vedere quanti ne dobbiamo leggere, quanti messaggi ci sono ancora da leggere. Mi dà questo numero, lo passo all'while. Qui mi scrive un serial print con ci sono messaggi e passiamo poi a questo metodo handle new message che si preoccupa di scaricarli e leggerli. Quindi aggiorno il numero di messaggi da leggere al termine di questo handle new message così che se ne sono arrivati altri li processo subito altrimenti vado fuori. Andiamo a vedere cosa fare nell'handle new message. L'altra volta facevamo un semplice echo quindi prendevamo delle informazioni e le rimandavamo indietro. Ora invece vogliamo andare a interpretare i messaggi che riceviamo. Questi li mettiamo in una stringa, la chiamiamo text, per recuperare il messaggio ricevuto farò bot.messages, questo è un array, uso l'indice i per pescare il messaggio che mi interessa e il campo testo sarà proprio text, quindi è una struttura o probabilmente un oggetto. Quindi questo è il contenuto. L'altra cosa importante è l'id della chat che posso ricavare con questa scrittura, lo prepariamo qua. Anche questo è una string, quindi string lo chiamiamo chat underscore id uguale bot.message indice i chat id. Queste due informazioni mi servono in modo da poter interpretare il testo. Lo facciamo con un if, facciamo if text uguale uguale. Qua scegliamo cosa mandare, posso mandare magari un comando con barra led on, quindi mi aspetto di ricevere questa stringa. Quando questa arriva accendiamo il led con digital write, il pin 2, mettiamo i e rimandiamo una risposta. Ho già qui pronta il codice che l'abbiamo tenuto, lo metto qua, bot.send.message. Dobbiamo passargli il chat id che abbiamo recuperato prima, quindi basta mettere semplicemente chat id. Il messaggio che diamo è, invece che fare l'eco, scriviamo noi qualcosa, mettiamo led is on. Copio questo codice, ctrl c, else, quindi abbiamo else if, qui abbiamo led off, correggo, led off, spengo il led e rispondo con led is off. Compiliamo, carichiamo sull'arduino per vedere se funziona. Va tutto bene, la carichiamo, attendiamo che si colleghi. Si è collegato, prendiamo la nostra chat, proviamo a mandare il messaggio barra led on, facciamo invio e il led dovrebbe accendersi. Proviamo ora a mandare led off. Il led dovrebbe spegnere, se vedete poi sulla chat sempre la risposta. Vi ricordo che la comunicazione deve sempre partire dalla chat. Bene, abbiamo creato il link in una direzione, quindi dalla chat verso arduino accendiamo e comandiamo. Quindi potete accendere le luci, fare quello che volete. Nel prossimo video vedremo come tornare indietro. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!